Ci riprovo, aspettiamo se ce la faccio o se mi casca ancora la linea, oggi purtroppo stanno facendo dei lavori e pensavo avessero finito stamattina e invece è cascato tutto, speriamo bene. Dunque, dovrebbe aver salvato dove ero arrivato, quindi quidizi morti. E io che stavo luttando. Figa. Grandissimo. Come l'ha chiamato? Una pallottola per due? La doppia, così, semplice. Vabbè. Madonna sto caricamento. Stay simple. Ah, proprio con la tizia tra i piedi. Va bene. Ora non è che mi devo rifar passare... Stay simpa. Ah, mi devo anche curare. Il cecchino ce l'abbiamo. Poi c'erano le pasticcole qua in fondo. Qua forse non c'era niente? No. Invece c'è. Dici che ne ho abbastanza... No. Ai 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 ai. Male radio, male. Qua dovrebbe esserci... Ah, era questo, quello vuoto. Fa la cura. Comunque il vetro lo spacco lo stesso. Allora, di qua avevo trovato il colpo del fucile da cecchino, mi sembra, da qualche parte. Eccolo qui. E spacco questo. Non so cosa sia, ma lo spacco lo stesso. Aspetta, questo lo posso rompere? Sì. Ma non c'era niente. Qua non c'è cazzo. Vai con un altro colpo. Qui non c'è niente. Che cazzo è che mi chiama adesso? Torino. Sarà uno spammer. Sicuro. Davvero, posso farmi il medikit intanto. Ottimo. Qua dietro non ci posso andare, eh. Non posso spaccare niente. No. Uffa. Vabbè. Vabbè. Aspetta, cosa ho visto? Un foglietto. Ottimo. Ah, qua arriverà qualcuno, dai. Pistola. Ricarichiamo. Ricarichiamo. Ricarichiamo il pompa. Non puoi romperlo perché è plexiglass. Può essere, può essere. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Quali manifesti? Ah, questi. La cazza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi di... Guarda, Dario, c'è il Comic-Con. Non è il Comic-Con, vabbè, come siano pignoli, però. Vabbè, è il Comic-Expo, dai. Qua è tutto bloccato. Si passerà di lì, ok. Ci vai, Luca? Non penso proprio. Ma cos'è tutti in questo momento? Siete entrati? Ehi, Nod e Nude qua? No. Niente. 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 Ecco, adesso mi imborso, anche. Ah, se sei fatto donna. Passiamo di fianco. C'è della robina qua, sì. Ma mi manca sempre il nastro. Ma che palle. Ficca il cinese dell'ombra è inquietante, comunque. Ma sì, lo so, dove devo andare. No, grazie. Pino mancia. Santo cielo. Ora vedo trappole. Ah, prevedo trappole. Ma no. Anche se là. Vediamo qua in giro. Una bottiglia. E non c'è un cazzo. Va bene. Perchè mi aveva in giro in boobwalk? Non capisco. Voglio vedere il cinebimbo. Puoi cercarli anche su Google. Foto di bambini asiatici le trovi. C'è bisogno di The Last of Us. Guarda che disastro. E' vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tony. Che cazzo di casino qua. Che cazzo di casino qua. Occhio che arriva la pulizia. Ti spiri. Ti immagini se salta fuori Katone. Mi caccatone con ancora le cannucce nel naso. E ora andiamo di qua. Sei orbo? Un attimo. Cazzo c'aveva ragione in cinese. Dove cazzo andiamo adesso? Vabbè ma non riesce a tirarsi su. Andiamo sotto allora. No. Qua c'è tutto bloccato. Non si vede una minchia. Non si vede un cazzo. Vai su, vai su Ellie. Ah, dovevo andare più sotto. Ok. Ottimo. Beccati questa, Dario. Ce l'hanno anche l'altra animazione. Esatto. E ho fatto io l'ultima kill, tra l'altro. Sarei venuto anch'io. Anzi, le ultime tre kill. Con una pioggia di granate. Io credevo che ti sareste opposto. Ammiravo, Joy. A pizzico di culo cosa? Ho tirato bene. Sarei venuto. Anche Joy l'aveva un debole per te, sai. Come Joy l'aveva un debole per te? Cosa stanno dicendo qua? Davvero. Qua sotto. Dai, ci sarà qualcosa. E' da malati. Mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah. Giusto. Sì, dai, ho trovato finalmente del nastro. Ok. E il tuo, saputello? Beh. Mia madre aveva solo un libro per bambini. Il bimbo radice. Si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Ok. Ma per farmi divertire mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta il bambino ha solo un'incubi. Non ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no? Sì. È la migliore. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ma ritorniamo in strada. Già. Una freccia. Non c'è nient'altro, no, eh? Niente, dai, andiamo avanti. No, non c'è più il vetro. Uffa. Adesso però mi posso potenziare. Allora facciamo la roba dei medikit. Ottimo. Mi sa che sei in ritardo. Cazzo. Cazzo. Figa, c'è anche un cane del cazzo. Uh, posso farla. E' il bello della non diretta. Dunque, dove sono andati adesso? C'è quello lì a sinistra. E' la tizia che parlava. Ma che cazzo? Ma vaffanculo, dai. Sto cane da dove cazzo è uscito? Non dovrebbero più trovarmi adesso, però... C'è un altro cane. E' social protection? Dai, figa. Ok. E' niente, ci stavano altro cane qua. Vaffanculo. E l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. Cazzo è? Qua. No, figa. Dove cazzo mi metto? Dobbiamo andare di qua. Ma... C'è sto tizio. Ok. Ah, c'è un altro lì, però. Vabbè, dai, lo becco da dietro. Dai che non mi vede, dai che non mi vede, dai che non mi vede. E' cieca. Cazzo, mi gira di qua. Maledetto cinese, mi ha fatto venire un colpo. Dai, dovrebbero essere tutti. C'è ancora qualcuno? Quello era l'ultimo, vero? No. Ottimo. Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Allora. Non dirlo. Allora, mettiamo un'occhiata. Sarebbe bello sul Bolt Action. Eh, sì, però. Effettivamente non sarebbe male. Mi sa che se vado avanti di qua è la strada principale. Quindi, no. Eh, vado a vederli sopra. La droga. Esplosivi, munizioni. Ottimo. Figa, qua c'è... Un arsenale. Vabbè. Forse ho esagerato. Dunque, adesso da qua... Passo sotto? Sì. Ottimo. Dai, dai. Dai. Vabbè, ovviamente sono dal lato sbagliato. Vabbè, ovviamente sono dal lato sbagliato. Vuoto. Perché non sale? Ok.